Salve mister, quali insidie nasconde la trasferta di Parma? I numeri sono molto chiari, è una squadra che ha fatto 25 punti, che non fa del possesso palla la sua arma migliore, ma la capacità di andare in verticale, sfruttando le caratteristiche dei propri attaccanti, molto bravi nel ripartire. Per quello sarà una partita dove ovviamente noi sicuramente andremo a fare la gara, ma la capacità e la forza è quella di essere molto bravi in preventiva, cercando di dare meno possibilità agli avversari di poter ripartire, cosa che inevitabilmente potrà accadere durante la gara. Oggi si è allenato con la squadra, per quello l'ha recuperato dal piccolo problemino che ha avuto durante la partita, che era più un'infiammazione, un affaticamento del momento. Buongiorno, prima di entrare magari nei contenuti tecnici volevo riportarla un attimo su un problema serio, che riguarda tutto il calcio italiano, non riguarda solo Inter-Napoli. Ieri c'è stato il tweet della società, la vicinanza a Colibali. C'è un problema serio dentro gli stadi, per episodi di razzismo, c'è un problema serio fuori gli stadi per atti di teppismo. Volevo sapere se lei sposa un pochino quello che ha detto Carlo Ancelotti, una cosa molto forte. Se non si ferma una partita per questi ululati, vorrà dire che ci fermeremo noi, intesa come squadra, a costo di perdere la partita. Prima di tutto io sto con Carlo, totalmente. Nel senso che lui ha fatto questi discorsi già in passato e io ho sposato pienamente. Condivido nella piena totalità, perché se è lo Stato che non riesce a regolamentare tutte queste problematiche esterne, dobbiamo essere noi a dare una risposta importante. Per quello sì, sto con lui. Questo è un po' il mio life motive del momento. Condivido pienamente quello che ha detto Carlo. Un'ultima cosa. Cosa deve fare in più il calcio italiano? Poi alla fine ci rimettono i tifosi, quelli veri, perché noi i delinquenti, i teppisti, non li chiamiamo tifosi, quelli appartengono ad un'altra categoria. Cosa si augura, soprattutto adesso, nell'anno nuovo, per portare qualcosa in più al calcio italiano? Guarda, ribadisco sempre l'intervento che noi si va spesso allo stadio non per cultura sportiva, più per offendere che per tifare per la propria squadra. E questo abbiamo fatto tanti discorsi, passando per le scuole, passando per tante altre cose, però concettualmente non cambia. Non cambia a volte anche a Roma lo stadio, dove si è spesso presi di mira, non tanto per gioire, ma per offendere. E credo che sia troppo importante lo Stato in questo senso qua. Come è successo già in passato, ci sono degli esempi importanti come l'Inghilterra. Non è un caso. Per quello bisogna essere duri, decisi. In certi comportamenti non possono essere lasciati andare, con troppa facilità. Per quello il calcio può fare tanto, ma uno di questi segnali è quello, come ha detto Carlo. Noi ci dobbiamo fermare. Tutte e due le squadre non devono accettare determinati goli e determinate situazioni. Gianni, scusa, una domanda sulla partita. Ho preso una di troppo, chiedo scusa. Parlava prima di Schick, ho detto che sta bene. Si ha già deciso se domani sarà lui a ripartire dal primo minuto o se è pronto Dzeko a fare il titolare? No, Dzeko è pronto per fare il titolare. È una valutazione che farò, però credo che ad oggi c'è una possibilità per entrambi di poter giocare dall'inizio. Per quello è una valutazione che devo fare. Anche perché sono partite molto ravvicinate. Devo fare delle valutazioni legate anche ai recuperi generali di un po' tutta la squadra, avendo tanti calciatori che vengono da piccoli infortuni, ma da una condizione non ottimale dal punto di vista proprio del reggere la partita per tutti i 90 minuti. Prego. Materia Sport Italia. Salve mister. Ecco, proprio in merito ai giocatori che non sono in condizioni, come sta il Sharawi e se Perotti può giocare due partite consecutive in un tempo così ravvicinato? Lo voglio valutare, Diego, anche se è un rischio farlo di giocare una partita dietro l'altra, anche per il minutaggio che ha avuto, per il percorso, per gli infortuni che ci sono stati, ma sono stato molto contento della sua prestazione anche a livello fisico che ha avuto contro il Sassuolo. Per quello valuterò anche insieme al ragazzo il recupero. Oggi non era al top, però in 24 ore si può migliorare. Per quanto riguarda invece Sharawi, è un altro giocatore che non può avere 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe anche lui, potrebbe essere uno di quelli che può partire titolare perché ha superato pienamente l'infortunio. Pastore, Romanista. Buongiorno. Nell'ultimo periodo Cristante e Zonzi sono stati chiamati a fare gli straordinari. Penso a Pellegrini che potrebbe stare per rientrare. Sta pensando a qualche soluzione alternativa oppure sono discorsi da rimandare dopo la sosta? Sì, da rimandare dopo la sosta. Nel senso che Pellegrini è un altro giocatore che ha fatto il primo allenamento con noi ieri, anche se sta secondo me bene. Per quello già ha averla a disposizione per me è un grandissimo vantaggio, avere delle alternative anche durante la partita. Però come vedete non è che ne puoi pensare troppi da mettere in campo. Anche perché i cambi sono tre, non sono tanti e questa valutazione la devo fare a 360 gradi ed è uno dei pensieri maggiori che ho per mettere in campo la squadra domani. Pugliese, Gazzetta dello Sport. Buongiorno, Ministro. Prima stava parlando proprio della pericolosità del Parma, soprattutto nelle ripartenze. Ecco, da questo punto di vista domani la Roma ritrova Gervinio, un giocatore che qui ha fatto anche cose importanti. State studiando qualcosa in particolare per cercare di contenerlo, soprattutto poi magari insomma quelle folate a campo aperto possono essere anche... Ma ho fatto comprare dalla società tre, quattro fucili, magari li spariamo. No, al di là della battuta. Credo che sia un giocatore che dobbiamo limitare. È ovvio che quando tu fai una partita del genere non puoi andare a Parma e metterti noi sotto la traversa. Questo sarebbe una partita a rimpiattino. Invece noi sicuramente dovremmo fare la partita e loro sfruttano proprio quest'arma. Come ho detto prima, la fase preventiva è fondamentale e cercare di darsi le coperture, almeno sempre con una superiorità numerica. Qui dobbiamo essere veramente bravi sia nelle letture e cercare di limitarlo in partenza, perché loro fanno attacchi col portiere, attacchi diretti. Per questo sfruttano proprio la gamba di questo giocatore. Però il fatto del fucile può essere anche una buona soluzione. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Due cose veloci, se mi sono concesse. La prima è un giudizio su D'Aversa, che è pescarese come lei. Le volevo chiedere sia un giudizio tecnico, sia il motivo per cui ci sono, se non sbaglio, quattro allenatori pescaresi tra Serie A e Serie B. Beh, sì, ce ne sono diversi. Prima di tutto è un centrocampista. I centrocampisti sono più intelligenti per poter fare gli allenatori. Non è una battuta, poi se no mi si offendono gli altri. Però è un ragazzo in gamba, che ha fatto un'altra fila, è partito dalla Serie C, poi ha fatto la B, insomma si è conquistato la Serie A attraverso il lavoro e col campo. Perché lo stimo tantissimo. Fa un tipo di calcio sicuramente differente da quello che faccio io, in questo senso. Però lui credo che abbia principalmente adattato le caratteristiche dei propri giocatori e ha cercato di sfruttarle al meglio. E devo dire che ha fatto dei risultati veramente importanti, specialmente con le squadre che stanno al vertice. Grazie. Le volevo poi chiedere, visto che forse non ne avremo l'occasione con la sosta, aveva parlato di mercato inevitabile, comunque di inevitabilità di tornare sul mercato, senza che ci dice ovviamente i nomi che state cercando. Le chiederei però di capire quali sono, secondo lei, i ruoli che hanno più bisogno di rinforzi e alla luce anche degli infortuni che ci sono stati, dei dubbi fisici su altri giocatori, eccetera. Grazie. Alla fine si può guardare un po' tutti i reparti, dipende un po' dalle varie situazioni che si vengono a verificare durante il mercato, anche dai calciatori che tu hai, no? Tanti voglio principalmente che nella Roma rimangono giocatori che hanno la voglia e il desiderio di mettersi continuamente in discussione. Questo credo sia la cosa più importante. però è prematuro farlo, come hai detto tu. Per quello pensiamo prima a questa partita, poi faremo tante valutazioni. Ma vi assicuro che col direttore abbiamo parlato pochissimo in questo senso di mercato perché in questo momento l'esigenza principale della Roma è fare punti e poi si valuterà il resto. Lorusso, Redies. Buon pomeriggio di Francesco. Senta, dopo la partita lei ha detto che quella era la migliore dell'anno, secondo lei, la migliore di questa stagione. Le volevo chiedere se secondo lei è scattato qualcosa a livello mentale, visto che effettivamente è stata una partita in cui la squadra ha giocato bene per 90 minuti e non ha dato segnali di cali, di tensione, eccetera. E se a questo punto lei si sente di dire che l'obiettivo è sempre quello del quarto posto? Insomma, se si sente realmente in corsa per questo obiettivo? Beh, ci sentiamo realmente sì in corsa, anche perché la classifica dice questo e il fatto che non ci sono tantissimi punti di distacco. L'anno scorso, mi sembra, dalla Lazio non avevamo qualcuno in più anche a meno giornate dalla fine e ne abbiamo recuperato pienamente. Per quello la squadra ha dimostrato di poterlo fare, siamo in crescita. Io principalmente volevo sottolineare che è stata la miglior prestazione dal mio punto di vista a livello tecnico, a livello di scelte offensive e anche alla capacità di recuperare palla nella metà campo avversaria. Abbiamo accettato spesso il duello uno contro uno ed è stata veramente una cosa che a me è piaciuto tanto e questo voglio spesso vedere dai miei calciatori, specialmente quando si vuole fare la partita. Ci ha facilitato un po' il fatto che il Sassuolo è una squadra che cerca di giocare e quando troviamo squadre che cercano di giocare non siamo molto più bravi ad andare a interpretare certe situazioni. Ma domani, vi dico da oggi, è una partita totalmente differente da quella che c'è stata mercoledì. Sarà una partita diversa e dobbiamo essere bravi a capire di entrare subito nella testa che dobbiamo interpretarla in maniera differente. Buongiorno mister. Lei prima ha detto che sposa un po' la posizione di Carlo Ancelotti per quanto riguarda il razzismo, però non crede che poi la possibilità che una squadra scelga di interrompere una partita a seguito di alcuni buo, tululati, possa conferire poi troppo potere a chi li fa? Questa è la domanda poi più sul campo. Invece per quanto riguarda Karsdorp, perché è un giocatore che è stato anche un investimento importante da parte della società, però si è visto pochissimo. E allora volevo sapere sia fisicamente sia mentalmente se è un giocatore di quelli che può far parte, per citare sempre lei, della Roma. Sì, purtroppo quando si fanno questi discorsi ognuno pensa di avere le soluzioni in mano, no? È un po', come si suol dire, siamo un po' tutti bravi a governare lo Stato, a gestire un hotel, a fare gli allenatori. Per quello io ritengo che bisogna fare. Solo chi fa può sbagliare, nel senso che bisogna prendere le iniziative. Ugualmente, come ho detto prima, uno non fa questo per conferire un potere. È il contrario. Il fermarsi può conferire un potere. Fermare il campionato avrebbe conferito un potere a chi commette questi reati o perlomeno a chi fa dei burazzissi. Per quello la capacità è fermarsi anche per dieci minuti per far capire che se si continua non si può andare avanti. Bisogna dare un segnale. Noi siamo sempre qua a parlarne, ma alla fine non si fa mai niente. Rimaniamo solo sui discorsi. Per quanto riguarda invece Carzolp, ha subito un colpo ieri, non era al meglio oggi. È una cosa da valutare, però è un giocatore che tengo in considerazione. Carboni, Centrosuono Sport. Mister, contro il Parma, che è un avversario che fa una grande fase difensiva per poi cercare di ripartire allungandovi, quanto può essere una dimostrazione di grande squadra l'utilizzare come arma la pazienza? Beh, la pazienza ce la devi per forza avere. Però ci vuole pazienza, ma bisogna fare anche gol poi, con la pazienza. Nel senso che non è che puoi permetterti di girare questa palla per mezz'ora, che è quello che un po' vogliono loro. Perché concedendo tanto possesso palla agli avversari magari ce l'hanno meno, ma pensano che è un po' il desiderio di questa squadra di far trofare. Noi dobbiamo essere bravi a forzare a volte anche delle giocate per cercare di uno contro uno, quello che sia, per cercare di scardinare questa loro linea difensiva. Il rischio, come ho detto prima, di ripartenze c'è, inevitabile, perché sennò non puoi giocare in maniera, è una cosa che si vuole, ma anche noi lo dobbiamo anche saper accettare e essere bravi a difenderla. Questo sì. Ultima trinca delle radio stelle. Salve mister, prima dell'infortunio Pellegrini è stato un autentico trascinatore, ora si parla molto di Nicolò Zaniolo, entrambi giocano sulla tre quarti, io le chiedo innanzitutto come pensa di gestire Zaniolo che si ritrova magari anche di fronte a un palcoscenico diverso, un po' più da grande e poi se ha pensato di poterli far giocare insieme o all'interno di un 4-2-3-1 oppure cambiando nuovamente modulo di gioco. No, per me possono benissimo coesistere, a differenza di che Zaniolo l'ha fatto anche in qualche occasione, ce l'ha anche provato da mediano, giocando in un 4-2-3-1, invece Pellegrini l'ha fatto, l'ha fatto anche a Firenze, se vi ricordate l'ha fatto molto bene, per quello è un giocatore che può giocare benissimo mediano. La qualità di Lorenzo Pellegrini è che riesce a ricoprire più ruoli in ogni sistema di gioco ed è una duttilità unica in un giocatore che ha la capacità di essere sempre in movimento e di fare le due fasi in una certa maniera. Per quello non sono assolutamente preoccupato, meno male che ce li ho, è una fortuna, non è una sfortuna. Grazie. 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 Grazie.